La Polizia di Stato di Vigevano, con l'ausilio di un equipaggio del nucleo operativo e cinofili della Polizia Locale, ieri pomeriggio 7 ottobre ha tratto in arresto un cittadino romeno 34enne, residente a Vigevano, titolare di un esercizio pubblico situato nel centro città, perché trovato in possesso abusivamente di una pistola Browning calibro 7,65 con relativo munizionamento e di sostanza stupefacente quantificata in 33,7 grammi di cocaina, suddivisi in 76 dosi, 4 grammi di hashish, suddivisi in 6 dosi, e 4 grammi di marijuana in un unico involucro. Gli investigatori del commissariato di Polizia hanno così concluso una serrata indagine svolta mediante servizi di appostamento e pedinamento, nell'ambito di un'attività di contrasto a diverse tipologie di traffici illegali posti in essere dall'arrestato, titolare di un noto bar di Vigevano, che era anche divenuto da alcuni mesi un punto di riferimento per l'approvvigionamento di droga per la movida vigevanese. All'esito degli accertamenti svolti, nel pomeriggio di ieri, con il supporto dell'unità cinofile antidroga della Polizia Locale, gli operatori dell'ufficio anticrimine hanno fatto irruzione nel bar, trovando parte dello stupefacente all'interno del dispositivo fabbricatore di ghiaccio, unitamente ad un barattolo contenente la somma di 440 euro, probabile provento della vendita dello stupefacente. Nel corso della successiva perquisizione effettuata nell'abitazione del soggetto, è stato rinvenuto altro stupefacente e all'interno del garage la pistola è detenuta illegalmente con 36 cartucce. L'uomo è stato quindi tratto in arresto e nei suoi confronti il giudice, nella mattinata odierna, ha disposto la misura cautelare degli arresti domiciliari.